Prima, quando pensavi di ristrutturare la tua casa, tra il dire e il fare c'era sempre di mezzo il mare. Oggi non più. Se vuoi ristrutturare casa, dividerla per farne due, o unire due case attigue, farlo è più semplice e veloce. Comunichi i lavori al comune e inizi subito. Hai meno documenti da presentare, non paghi più contributi di costruzione e all'accatastamento ci pensa il comune. È casa tua, decidi tu. Scopri di più su casa.governo.it Grazie.